Ciao, se sei un tipo curioso, ti consiglio di iscriverti al canale, e attivare la campanella per non perdere tutte le novità. Buona visione. La plastica, e il disastro ambientale. Il mondo è sofferente e indifeso, colpito dall'invasione del suo peggior nemico, la plastica. Gli oceani sono saturi di materiali plastici, di ogni genere sparsi in ogni dove. Il consumo è al massimo, circa 2 miliardi di persone, producono consumano e riversano in fiumi e mari, quasi 6 milioni di tonnellate di plastica ogni anno. Utilizziamo ognuno 100 kg circa di plastica all'anno, e di questi solo il 40% finisce nelle discariche, il resto praticamente sparso ovunque, mettendo insieme tutti gli abitanti di questo pianeta, arriviamo al triste primato di riversare in mari, 10 milioni di tonnellate di materie plastiche ogni anno. Dovremmo essere imputati nel più grande, processo per disastro ambientale della storia, ma noi ignoriamo che il problema non ci riguardi. Tutto questo un concentrato di stupidità umana. I 5 vortici di corrente subtropicali, stanno ammassando frammenti in tutti gli oceani. Migliaia di specie marine sono a rischio d'estinzione, tutto questo per merito nostro. La plastica col tempo si fraziona in microplastiche, rilasciando tantissime sostanze nocive, andando ad intaccare animali e l'acqua che esce dai nostri rubinetti. Ricordiamoci che, una sola bottiglietta d'acqua impiegherà 500 anni per degradarsi, così un'enorme marea di polimeri di plastica, avrà tutto il tempo di trasformarsi in un killer spietato. Rifletti e prendi coscienza. Il video è arrivato a conclusione. Fammi sapere il tuo parere in un commento. Iscriviti al canale, grazie del tuo supporto.